Prima che inizi con tutto il video ti invito soprattutto ad iscriverti al canale e guardare il video fino alla fine Ovviamente perché è importantissimo che tu guardi il video fino alla fine E soprattutto iniziare a seguirmi su Instagram E se hai qualsiasi domanda, se vuoi chiacchierare semplicemente con me Ti invito a farle, cosa molto importante E seguirmi, cosa molto importante è supportarmi nel negozio oggetti con il mio codice creatore che è VEGYT Detto questo io direi di poter partire direttamente con il video Salve a tutti ragazzi e bentornati di nuovo sul mio canale Io sono Diegik e oggi per come potete vedere dal titolo siamo nuovamente tornati a parlare di glitch In realtà siamo di nuovo qui a provare i glitch di Fortnite Per ottenere le skin in maniera totalmente gratuita e come è giusto che sia Cosa molto importante, ti invito soprattutto ad iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto E cosa importantissima, attivare la campanellina qui su YouTube Seguirmi su Instagram è cosa molto importante Che mi aiuta a realizzare quel famosissimo contest di 13.500 di bucks O di 100€ e utilizzare il mio codice creatore nel negozio oggetti ovvero DiegikYT E se non lo avete ancora fatto vi invito a farlo In modo tale da supportare soprattutto la realizzazione di questi contest Detto questo siamo in questo video perché ovviamente voi l'avete aperto Perché c'è scritto glitch per ottenere la Renegade Rider gratis Ovviamente cosa che dobbiamo andare a fare, cosa molto importante per questi video È selezionare il nostro matchmaking su Oceania Dov'è l'Oceania? Dov'è l'Oceania? Ok mettere Oceania Cliccare su applica Poi mettere queste impostazioni praticamente tutte su Questa qui su no Questa su sì, no, no Questo metterlo così praticamente Andare indietro e poi scrivere praticamente Qui sulla chat di testo Questo comando di qua Non inviarlo subito È cosa importante da fare Ovviamente dobbiamo tenere d'occhio che il server è in Oceania È cosa molto importante È riavviare il gioco in questo caso È... mi sembra giusto Ovviamente ci rivediamo non appena avrò riavviato il gioco E siamo nella schermata di selezione Finalmente siamo di nuovo qui nella schermata di selezione di gioco Perché ho appena riavviato E ci tocca semplicemente avviare nuovamente la modalità di gioco In questo caso è battaglia reale Per andare a vedere che soprattutto queste cose funzionano oppure no In questo caso sapete già cosa che andremo a fare Perché ve l'ho già detto in un video scorso E mi sembra pure onesta come cosa Come potete vedere queste cose non funzionano assolutamente Che ho detto anche all'inizio del video Guarda caso E tutti quelli che fanno questi video Compresi alcuni che ho fatto io Sono fake Io l'ho ammesso L'ho anche detto in un video Sono video che non funzionano Che non dovete assolutamente fare E se li guardate soprattutto Prendeteli a scherzo a scopo intrattenitivo Quando altre non creare flame sotto i commenti Detto questo Soprattutto io ti invito ad iscriverti al canale Se questo video ti è piaciuto Spero che ovviamente ti sia piaciuto E che si è guardato questo video fino a questo punto Commentate qua sotto con scritto Renegade Drive Vi invito a seguirmi su Instagram E supportarmi con il mio codice creatore E che c'è da dire Io direi che per questo video è tutto E noi ci rivediamo qui come sempre Con un prossimo video E noi ci rivediamo qui come sempre